Ciao, sono Marco Valericci, muscle trainer di programmazione neuro-investica e considerato a livello nazionale l'allenatore della felicità. Ti voglio parlare oggi di un programma di cui sono particolarmente fiero. Il programma si chiama La libertà di essere se stessi. Il titolo che abbiamo scelto come Accademia dei Coach è un titolo che vuole dire già al suo interno che cosa si ottiene, che cosa tu otterrai frequentando questo seminario, che in realtà è qualcosa che va molto al di là di un semplice seminario, è un vero e proprio percorso. Ti voglio dare un'idea, si inizia con una full immersion di 5 giorni in un luogo magico, splendido, con agriturismo, tendenzialmente in un ambiente che, come dire, è veramente al di fuori del tempo. Durante questi 5 giorni si lavora a più livelli, a livello mentale, a livello del cambiamento interiore e personale, a livello dell'apprendimento di una serie di tecniche. ma ancora di più si lavora ogni mattina con un trainer specifico nell'aumentare la propria capacità di percezione del mondo che ci circonda. Io la chiamo programmazione universitaria corporea. Dopodiché, al termine di questi 5 magici giorni, inizia un percorso personale di esercizi, esercitazioni, in cui verrai affiancato da un coach, da un trainer. avrai accesso illimitato a questa persona durante questi giorni. Questi giorni in cui dovrai fare dei compiti, degli esercizi, perché quello a cui noi teniamo, io personalmente, tengo, è che tu sappia applicare alla tua vita quotidiana, non solo in un contesto magico come può essere quello del seminario, ma anche nella vita di tutti i giorni, i concetti appresi. e questo durerà tutto il periodo che ci separa dal secondo modulo. Nel secondo modulo, che durerà altri 5 giorni, nuovamente in un luogo magico, saremo di nuovo tutti assieme. Si ricreerà quell'atmosfera, quell'ambiente speciale, quell'ambiente unico che si crea quando un gruppo di persone focalizzate per ottenere il massimo da si stessi, per ottenere il massimo della propria vita, lavora insieme. E avremo modo di verificare ancora meglio quelli che sono stati i momenti di grandi risultati o anche eventuali momenti di difficoltà nell'applicazione di quello che avrai fatto durante la pausa. E poi si riprenderà, si riprenderà andando ancora più in profondità nell'apprendimento delle più innovative tecniche di cambiamento personale. Quindi impareremo una serie di tecniche e le applicheremo su noi stessi. Impareremo ad applicarle sugli altri. Quindi che tu sia una persona interessata alla crescita personale o professionale. Che tu sia un coach e voglia diventare ancora più abile nell'applicazione, nei campi della comunicazione, del cambiamento personale, dell'aiutare le persone a ottenere risultati maggiori. Che tu sia uno psicologo e voglia imparare le più moderne tecniche di cambiamento personale. Questo è qualcosa che fa per te. Ma anche se sei uno studente e vuoi trovare maggiori motivazioni in quello che fai, vuoi arricchire il tuo bagaglio di esperienze. Ti posso dire che molti degli studenti che hanno frequentato questo percorso al termine, il giorno della loro laurea, mi hanno mandato un messaggio. Mi hanno detto grazie, io ho ottenuto la laurea, ma ce l'ho fatta nei tempi che avevo scelto io. Grazie al fatto che in questo percorso ho imparato come gestire me stesso, come essere libero di essere me stesso. Questo percorso ha un plus, ha qualche cosa che fai in modo che non ce ne siano altri uguali. Ti rilascia anche una certificazione. La certificazione va in internazionalmente. Ti rilasciata tramite l'atteremo di coach dall'NLP Society, firmata da me come master trainer in programmazione neurolinguistica e dal dottor Richard Bandler, co-creatore della programmazione neurolinguistica e da John Lavalle, presidente dell'NLP Society. Cioè al termine del percorso della libertà di essere se stessi tu riceverai a casa tua la certificazione come practitioner in programmazione neurolinguistica. Noi consideriamo con molta importanza questa certificazione perché è una garanzia di qualità sia della nostra organizzazione sia del fatto che tu abbia appreso le tecniche più moderni, più efficaci per ottenere il cambiamento dentro te stesso e negli altri. Allora ti invito a leggere la presentazione con tutti gli argomenti, con tutte le specifiche che fanno parte di questo percorso. e soprattutto mi auguro di vederti presto nei prossimi seminari. Sappi che circa ogni due mesi ti parte uno. Quindi semplicemente ti auguro di avere una vita meravigliosa, di continuare una splendida giornata e di darti l'opportunità di essere libero e di essere te stesso. Grazie a tutti.